Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda puntata del KOS Informa. Io sono Francesca Zogno, sono Digital Marketing Specialist presso KOS Italia e oggi sarò la mediatrice dell'evento. KOS Informa come sapete è un progetto firmato da KOS che prevede una serie di lezioni online sul tema della maiscoltura. La scorsa settimana abbiamo parlato di miglioramento genetico del mais insieme a Daniel Grandis, responsabile agroservice di KOS Italia, mentre oggi parleremo di gestione degli insilati insieme a Maria Chinello, referente di zootecnia e sempre parte ovviamente del team agroservice di KOS Italia. Il progetto KOS Informa durerà fino a febbraio, ci sono ovviamente una serie di lezioni in programma e se desiderate prendere visione del calendario e iscrivervi alle prossime lezioni vi invitiamo a visualizzare il nostro sito web oppure potete trovare tutte le indicazioni presso le nostre pagine social. L'intervento di oggi sarà registrato e verrà poi messo disponibile sempre a livello online, riceverete via email indicazioni appropriate su dove trovare la registrazione e se desiderate fare domande lo potete ovviamente fare poi risponderemo alla fine dell'intervento. C'è qui su Teams la sezione dedicata alle domande, al Q&A, quindi chiedete pure tutto quello che desiderate. Io ora passo la parola a Maria e vi auguro un buon ascolto. Buongiorno a tutti, io sono Maria Chinello, mi ha già presentato Francesca, quindi direi che possiamo procedere con la presentazione e con questa breve spiegazione su che cos'è l'insilamento e la gestione poi dell'insilato. Prima di parlare di insilamento però, prima di parlare della gestione dell'insilamento, vediamo insieme che cos'è l'insilamento. Allora è una tecnica di conservazione, volta appunto a conservare foraggio fresco o preappassito. Il tutto è caratterizzato da un processo di fermentazione che sfrutta l'attività di quelli che sono i batteri lattici positivi, che sono presenti naturalmente nelle piante e che in condizioni di anaerobiosi, quindi appunto in assenza di ossigeno, trasformano gli zuccheri in acidi organici che sono principalmente acido lattico, che aiuta l'abbassamento del pH e quindi l'acidificazione della massa e poi abbiamo anche acido acetico. Questo processo viene effettuato perché appunto va a mantenere tutta quella che è la qualità nutritiva delle nostre matrici fresche. Parlando di insilamento, allora adesso andremo a vedere insieme i punti chiavi per avere un insilato ottimale e qui di seguito vedete una lista insomma di tutti i temi che andremo a toccare in questa mezz'ora insieme. Partendo dalla scelta della varietà e della tecnica culturale più appropriata, l'epoca di taglio e quindi la maturazione della pianta, poi più in pratica la lunghezza di trinciatura e il rompe di granella, il riempimento e la gestione della trincea, una volta aperta la trincea i corretti tempi di avanzamento e di gestione del fronte e infine un breve accenno su che cosa sono l'inocule e su perché servono. Parlando appunto di varietà, ogni tipo di specie voraggera ha determinate condizioni da rispettare nel momento in cui andiamo a insilarla. Il mais al momento è il più comune ed è anche quello più facilmente insilabile perché ha un quantitativo di zuccheri che appunto abbiamo detto servono per l'acidificazione molto elevato. Di contro ha che però è una cultura che ha bisogno di molta acqua e soprattutto in ambienti molto stressati e molto secchi c'è anche un alto rischio di contaminazione di micotossine. Un'altra matrice che troviamo abbastanza comunemente sono i cereali etonovermini, anche questi vanno raccolti con una sostanza secca intorno al 30 per cento quindi quando arrivano una maturazione latte ocerosa. Non necessariamente richiedono un pre appassimento in campo cosa che invece magari richiede un erbaio e l'unica cosa a cui bisogna stare molto attenti è nel caso ad esempio dell'orzo che le reste non si siano troppo indurite altrimenti queste risultano poi poco digeribili per l'animale. Sono piante che hanno un elevato contenuto di ADL quindi appunto risultano poi meno digeribili per quanto riguarda la fibra. Infine una matrice che troviamo sempre di più è il sorgo e questa è non dico che sia nuova però è un foraggio che sta apparendo negli ultimi anni. È molto adatto ai crimini secchi a differenza del mais per cui insomma quando abbiamo temperature troppo elevate e poca disponibilità di acqua il sorgo è una buona soluzione. Essendo però una pianta molto più alta e è molto più ricco di fibra ed è anche più propenso all'allettamento. Andiamo ora a vedere nel dettaglio che cos'è il processo di insilamento. Come detto appunto è un processo che parte dalla trinciatura in campo fino a che poi appunto la trincea non viene consumata dagli animali. Durante tutto questo processo ci sono delle reazioni biochimiche che permettono di arrivare alle condizioni ideali che si ricercano e che vanno a preservare la nostra matrice. Queste condizioni ideali sono la neurobiosi, un contenuto adeguato di acido lattico che porta quindi a un pH inferiore a 4 e temperature basse. Le fasi dell'insilamento sono quattro, abbiamo la fase aerobica che è quella iniziale che appunto va dal momento in cui la pianta viene tagliata in campo fino a che non viene chiusa la trincea. La seconda fase è una fase anaerobica che dura circa una o due settimane e permette di arrivare alla poi la fase di stabilità che è quella che va da quando appunto si arriva dalle due settimane dopo la chiusura del silo fino a che non viene aperto e per ultima abbiamo la fase di apertura. La prima fase è la fase aerobica appunto dura 4-5 giorni ed è quella che segue la trinciatura del foraggio. Questa fase deve durare 4-5 giorni perché nel momento in cui noi andiamo a tagliare la pianta iniziano subito a installarsi una serie di fermentazioni che sono però in questo momento aerobiche. Il punto è che queste fermentazioni utilizzano lo zucchero che poi è la base di quelle che sono le fermentazioni che invece noi vogliamo in un ambiente anaerobico. Per questo è molto importante che duri poco e solitamente alla fine di questa fase le temperature sono molto alte arrivano anche i 40 gradi e il pH è intorno a 5. Con la compattazione iniziale noi andiamo anche a eliminare più ossigeno possibile in modo che appunto tutti i microrganismi aerobi vengano inattivati. Al termine di questa fase quindi quando non c'è più ossigeno comincia la seconda fase che è la fase anaerobica. Questa va da una a due settimane se è ottimale. In questo caso appunto gli zuccheri vengono degradati dai lattobacilli che sono appunto anaerobici e che aiutano ad abbassare il pH ulteriormente. Solitamente lo troviamo intorno al 3, 8, 4 e in questa fase è possibile che però se non c'è una buona permeabilità del silo ci siano anche altri tipi di batteri come interobatteri crostridi che appunto vanno sempre a degradare gli zuccheri e che sono chiamati batteri cattivi e che appunto portano a fermentazioni non positive. C'è da dire che però questi sono batteri che vengono indibiti da un pH sotto il 4 per cui nel momento in cui la nostra fase va bene, l'abbassamento del pH è corretto, non abbiamo questi tipi di problemi. La terza fase appunto è una fase di stabilità, qui abbiamo un pH inferiore, temperature basse e l'assenza di ossigeno. Può durare anche più di un anno, dipende sempre da quello che è l'interesse poi dell'azienda che andrà a utilizzare l'insilato. E come ultima fase c'è l'apertura, la somministrazione agli animali e questa è un po' la fase più complicata perché noi andiamo a aprire il silo e quindi l'ossigeno ricomincia ad agire sulla nostra trincea, sul nostro insilato e iniziano a degradarsi tutte le sostanze nutritive e potrebbe essere che ci sia anche l'insorgere di muffe e lieviti che sono i maggiori responsabili del deterioramento aerobico che è il maggiore problema legato a questa fase. È per questo molto importante gestire correttamente l'avanzamento della trincea e il metodo di desilamento. Questa è una figura che riassume l'andamento del pH, quindi appunto partiamo da un pH intorno al 6 con la nostra fase aerobica, il pH scende durante la fase fermentativa e rimane basso sotto il 4 durante la fase di stabilità. Una volta aperta la trincea, se è tutto gestito nella maniera ottimale, il pH non ha il tempo di elevarsi, se invece abbiamo deterioramento aerobico, chiaramente il pH comincia ad alzarsi portando poi tutta una serie di conseguenze negative che andremo a vedere insieme. Passiamo ora alla parte pratica. La parte pratica comincia prima del riempimento della trincea. Ovviamente nel momento in cui noi andiamo a creare una nuova trincea o un accumulo, bisogna tenere conto di determinate cose che possono andare a influire negativamente sull'insilamento. È quindi importante distanziare la trincea da varie vasche di stoccaggio, le quame, le tame. Bisogna evitare assolutamente la contaminazione con la terra in tutte le fasi, quindi da quando andiamo a raccogliere la pianta, fino a quando desiliamo e poi bisognerebbe evitare il più possibile il contatto con redditori e volatili che più avanti vedremo rischiano di andare a rompere il nostro film plastico e quindi far penetrare l'ossigeno nella trincea. Per quanto riguarda la parte di preparazione e gestione della trincea, ora andremo a parlare di riempimento, compattazione, copertura e appesentamento del silo, lo stoccaggio e poi avanzamento del fronte, infine parliamo di deterioramento, stabilità aerobica e di tutte le criticità in cui possiamo incorrere. Quando noi andiamo a creare la nostra trincea, la prima cosa da valutare è appunto il tipo di foraggio e la maturità a cui raccogliere. Bisogna tener conto che un contenuto di acqua troppo elevato porta a fermentazione anomale, perché i crostridi entrobatteri che ho già citato proliferano in ambienti molto umidi e acquosi. Per alcune matrici come appunto l'ierbai è quindi utile valutare un preappassimento in campo, questo perché sono matrici che faticano ad acidificare. Preappassire in campo vuol dire di ritratare la pianta e quindi è un aiuto poi all'acidificazione. dall'altra parte invece un contenuto di acqua troppo scarso, quindi sostanza secca troppo elevata, va a ostacolare quella che è la compattazione e in questo caso si può pensare appunto di magari trinciare un po' più corto in modo che sia favorita comunque la compattazione. Il silo andrebbe riempito e chiuso nel miglior tempo possibile, in modo appunto da limitare tutte quelle che sono le perdite dovute alla respirazione e alla presenza di ossigeno e anche appunto da preservare la qualità dei nutrienti. Ovviamente però un veloce riempimento non deve assolutamente andare a discapito di una compattazione ottimale. Questo perché appunto la compressione è la parte fondamentale perché elimina l'aria e se è ben compattato una volta che io apro la mia trincea e vado a destilarla man mano impedisce che l'aria penetri troppo o comunque avanzi troppo all'interno della mia trincea. Per questo è molto importante nel momento in cui vado a riempire la trincea non andare troppo sopra le pareti e nel caso invece di cumuli non andare troppo in alto. Questo perché si creano delle pendenze laterali dove già è più difficile calpestare. Se poi abbiamo queste pendenze è praticamente impossibile oltre al fatto che il trattore rischia anche il ribaltamento. Molto legato alla compattazione e alla lunghezza di taglio ovviamente minima adesso siamo intorno ai 0,7 cm fino a anche 1,8 cm quindi molto corto va bene perché è più facile da compattare soprattutto quando abbiamo sostanze secche più elevate. Una volta quindi riempito e compattato il silo va ricoperto. Ci sono migliaia di film plastici in commercio e adesso negli ultimi anni troviamo anche appunto la barriera ossigeno quindi insomma ognuno può scegliere quello che più preferisce. Molto importante sarebbe come si può vedere nella seconda figura quando noi andiamo a riempire la trincea o meglio prima di riempirla posizionare un telo anche che copre le pareti. Questo perché si è visto che crea un maggiore isolamento, maggiore permeabilità all'aria e soprattutto se appunto le pareti sono un po' vecchie quindi abbiamo magari dei crepi eccetera la massa è più isolata. Dopodiché una volta chiuso deve essere applicato sopra la trincea un peso, la pressione minima deve essere intorno ai 150 kg per metro quadro e questo perché appunto sempre per il discorso quando andiamo ad aprire se c'è il peso, se la massa è ben appesantita l'aria fa sempre più difficoltà ad entrare. I pesi sono di diversi tipi, c'è chi usa le piastrelle, chi la ghiaia, chi copre di terra quindi anche qua c'è molta scelta. L'unica cosa è che tante volte troviamo i pneumatici che però non garantiscono la distribuzione omogenea e soprattutto non garantiscono l'appesantimento minimo necessario. Quindi dopo che abbiamo chiuso la nostra trincea adeguatamente appesantita si passa alla fase di stoccaggio. È molto importante anche questa perché se noi andiamo a aprire troppo presto la trincea rischiamo che tutte le fermentazioni non siano state apportate a conclusione per cui rischiamo di trovare ancora temperature alte e un pH non ottimale. quindi minimo i due mesi, 40-60 giorni. Dopo la nostra fase di stoccaggio quindi andiamo ad aprire la trincea e iniziamo a consumarla. Nel momento in cui noi andiamo ad aprire la trincea sarebbe bene pensare anche a un metodo per tenere coperto il fronte che può essere semplicemente il telo svolazzante che alzo nel momento in cui vado a fare il prelievo e poi riabbasso oppure anche una tettoia. Questo perché appunto protegge la trincea dall'acqua, della pioggia, ma soprattutto dai raggi del sole che favoriscono il surriscaldamento e il deterioramento della massa. Questa è un po' la frase critica perché appunto desilando noi andiamo a aumentare la superficie esposta all'aria e quindi acceleriamo quello che è il deterioramento. un'accortezza sarebbe prediligere una superficie di taglio netto usando la fresa desilatrice e rinnovare il fronte il più possibile velocemente. Se noi ad esempio usiamo la benna o un desilamento manuale rischiamo che si smuova anche tutta la parte dietro a quello che è il nostro prelievo. questo porta appunto a uno scompattamento del fronte e a una penetrazione dell'aria anche fino a un metro, un metro e mezzo nella trincea. Se invece nel punto garantiamo oltre al taglio netto anche una buona velocità di avanzamento non dovremo avere problemi. Con buona velocità di avanzamento si intende maggiore di 15 centimetri al giorno in inverno invece maggiore di 20-25 centimetri di giorno in estate. per ultimo il deterioramento aerobico una serie di attività è dovuta una serie di attività microbiche aerobiche che vanno a compromettere la qualità nutrizionale. È dato principalmente dai lieviti, questo perché i lieviti sono aerobi facoltativi e rimangono in uno stato latente durante tutta la conservazione. Nel momento in cui però noi apriamo la trincea e quindi facciamo sì che l'ossigeno ricominci ad agire, questi iniziano a proliferare e sono appunto i primi che determinano quindi l'inizio di tutte le attività respiratorie dei microrganismi. Cominciando a lavorare creano di nuovo degli ambienti favorevoli a tutta una serie di altri microrganismi tra cui le muffe. Queste sono quelle più visibili perché ovviamente si vede la muffa, ma bisogna tener conto che sotto la muffa solitamente c'è tutta una parte molto più grande, deteriorata, che però non è così visibile. Di solito la parte alta, quella a contatto con il film, è la più esposta a deterioramento, all'increscere anche di muffe, proprio perché è la parte che ovviamente è meno compressa. Parlando di deterioramento aerobico parliamo anche di stabilità, è un po' diciamo vanno in concomitanza, la stabilità si misura in ore ed è il tempo necessario perché all'interno dell'insilato si verificano dei cambiamenti di temperatura nel pH. La temperatura chiaramente è molto più misurabile, molto più facilmente misurabile rispetto al pH ed è per questo che bisognerebbe tenere monitorata la trincea. Le temperature in estate non dovrebbero superare i 35 gradi, invece in inverno i 25. Ovviamente parlo di temperature anche così diverse, quindi 10 gradi di differenza, perché in estate le temperature sono molto più alte, quindi è normale che la nostra trincea sia più calda. Quindi appunto abbiamo parlato di quella che è la gestione e la creazione della trincea e ora andiamo a vedere le criticità. Appunto come già detto in precedenza il pH e l'ossigeno sono i due fattori più importanti e di cui bisogna sempre tener controllati, insomma tener conto. Abbiamo una serie di fermentazioni positive che sono date dai nostri batteri lattici, omofermentanti e oterofermentanti e che nella figura vedete in verde appunto perché sono positive e una serie invece di fermentazioni negativi date da clostridi, interobatteri, lieviti, muffe e quant'altro. I batteri lattici sono appunto molto importanti e sono di tre gruppi, omofermentanti obbligati che fermentano il glucosio in solo acido lattico e non producono CO2 e eterofermentanti facoltativi che anche essi fermentano in acido lattico un po' di acido acetico e anche essi non producono CO2. Questi primi due gruppi di batteri favoriscono l'abbassamento veloce del pH perché appunto l'acido lattico è un acido molto forte che quindi acidifica la nostra massa in velocità. Inoltre non essendoci la produzione di CO2 abbiamo un minor perdite di sostanza secca sotto forma di gas. Il terzo gruppo sono gli eterofermentanti obbligati, questi appunto producono acido lattico, acetico, altri acidi organici ma soprattutto producono anche CO2 quindi abbiamo un minimo di perdite di sostanza secca. Dall'altra parte però abbiamo la produzione di acido acetico che è un agente antimicotico e quindi va a ridurre il numero di lieviti e quando noi andiamo a aprire la trincea avere un fronte trattato appunto con acido lattico, con acido acetico aiuta la stabilità dell'insilato. Per quanto riguarda invece i batteri negativi abbiamo clostridi ed entero batteri. I clostridi sono assolutamente quelli più dannosi, crescono in assenza di ossigeno ma appunto il pH deve essere superiore a 4 e 2, vengono inibiti se no. Questi sono anaerobi ma sopravvivono appunto con pH più acidi, con ossigeno, con alte temperature e quindi diciamo che sopravvivono nell'ambiente e la loro sopravvivenza è data dal fatto che loro si spostano sotto forma di spora. il fattore principale di contaminazione con i costridi è il terreno, di solito loro si trovano nelle feci o nel terreno e quindi insomma per l'altra cosa arrivano in trincea e quindi entrano nella nostra matrice quando è ancora chiuso probabilmente entrano già a partire dalla pianta. Se poi l'ambiente è molto acquoso durante la fase di consumo o durante la fase di consumo insomma loro portano a una degradazione della matrice. Sono di due gruppi i crostridi butirrici e proteolitici. I butirrici degradano gli zuccheri e l'acido lattico anche in acido butirrico e questo potrebbe dar fastidio perché è un acido ma è un acido talmente tanto debole che non provoca nessun abbassamento del pH anzi lo porta più alto rispetto a quello che è l'acido lattico e per cui appunto garantisce ai batteri butirrici di sopravvivere, di svilupparsi, di riprodursi. Gli altri crostridi sono quelli proteolitici che degradano le proteine ad ammoniaca e anche ammine biogene che sono tossiche. L'altro gruppo di batteri pericolosi o dannosi insomma sono gli enterobatteri e questi li troviamo soprattutto nelle prime fasi dell'insilamento quindi nella fase anche aerobica e vanno soprattutto vanno in competizione con i batteri lattici perché degradano lo zucchero anche essi in acetato e etanolo e inoltre sono anche i maggiori responsabili della presenza di ammoniaca negli insilati. Inoltre ci sono alcuni ceppi che producono le endotossine che sono anche se tossiche poi per il bestiame. Questi però sono molto sensibili all'abbassamento del pH per cui insomma se noi andiamo a produrre molto acido lattico inibiamo la crescita degli stessi perché appunto sotto il pH di 4,5 non sopravvivono. I lieviti anche questi fanno parte delle fermentazioni anomale e sono aerobi facoltativi e appunto sono presenti nelle piante e soprattutto tollerano gli acidi dell'insilato quindi rimangono lattenti. La causa maggiore appunto dell'attività dei lieviti e la presenza di ossigeno è anche residui di zuccheri e solitamente loro vanno ad alterare la fermentazione portando a una concentrazione elevata di etanolo. Come detto rimangono in forma latente e all'apertura della trincea quindi l'ingresso di ossigeno riattivano tutto il metabolismo e innalzando il pH producendo il CO2 e facendo sì che tutti gli altri microrganismi ricominciano a funzionare. L'alcol che producono soprattutto l'etanolo è molto è molto tossico soprattutto se somministrato per lungo tempo. I lieviti sono collegati alle muffe e anche esse si riproducono tramite spore e a differenza di tutti gli altri microrganismi le muffe si riconoscono a occhio nudo. Derivano solitamente da dei funghi che troviamo già in campo insomma. Adesso vi accenno velocemente quali sono questi funghi perché poi li affronterete la prossima settimana con il mio collega che vi parlerà di sanità del mais, quindi li affronterete più in dettaglio. Una cosa che le muffe solitamente portano anche a micotossine, non tutte e soprattutto le micotossine possono essere più o meno tossiche, però diciamo che solitamente quando c'è una muffa è bene non dare quella parte amuffita all'animale perché si incorre nel rischio appunto che poi l'animale ne risenta. Allora per quanto riguarda i funghi abbiamo il genere Fusarium che dà una muffa di colore rosso-rosa e questo è il principale produttore di micotossine, produce il DON, lo ZEA e le fumonesine che sono un po' anche le tossine più comuni nell'ambiente zootecnico nel senso che sono quelle più conosciute perché fanno più male. Dopodiché c'è il genere Aspergillo di colore giallo-verde e questo produce le aflatossine che sono oltre ad essere pericolose per gli animali, sono pericolose anche a noi perché vengono trasmesse attraverso l'atto, attraverso la carne e per noi sono cancerogene. Il genere Penicillo ha un colore verde-blu e anche questo porta a micotossine, quali le ocrotossine. Infine il genere Mukor che è la muffa un po' forse più comune, quel colore bianco-grigio, di solito questa non è collegata alla produzione di micotossine, ma non è detto perché poi appunto i funghi evolvono, i colori cambiano, per cui insomma non è detto che un colore sia necessariamente quella tossina là. Di questo c'è da dire che comunque dà fastidio agli animali perché essendo una muffa porta immunodepressione e oltretutto invece va anche a generare grave alterazioni nell'insilato rendendolo poi neanche comunque poco affettibile. Queste sono un po' di immagini di quando appunto troviamo le muffe o dell'attività dei lieviti e nella nostra trincea appunto vedete come si sviluppano, come poi comunque si vedono le muffe a occhio nudo. Bene, allora dato che è molto importante la buona riuscita dell'insilato, se non si è sicuri di poterla garantire, si può pensare all'utilizzo di inoculi. Vi spiego appunto che cosa sono. Beh, allora gli inoculi sono dei batteri lattici naturali, nel senso che appunto sono batteri che comunque troviamo nella matrice insilata, solo che andando a inoculare il trinciato garantiamo che le strimentazioni avvengano, siano più controllate e avvengano nella maniera migliore possibile. Questi appunto portano a un veloce abbassamento del pH, quindi il pH è corretto e grazie a questi e grazie al fatto che le strimentazioni vanno nella maniera migliore, le temperature anche sono corrette. C'è da dire che esistono diversi tipi di inoculi, solo omolattici o anche etrolattici, che quindi appunto contrastano la presenza di ossigeno grazie alla produzione di acido acetico. Alla fine noi avremo un prodotto con delle strimentazioni più controllate, più sano e anche più appetibile, con una migliore qualità nutrizionale, perché è preservata tutta la qualità insomma. E parlando di qualità appunto noi abbiamo due tipi, le qualità parlando di silo mais, di mais, di silato sono due, la qualità nutrizionale e la qualità fermentativa. La qualità nutrizionale è la composizione chimica e dipende in primis dal foraggio che andiamo a raccogliere insomma. I parametri principali sono la sostanza secca, che è la prima valutazione da fare, tenendo conto che a parte i problemi che abbiamo visto che può apportare, l'acqua non apporta energia. Dopodiché ci sono le ceneri, che è la parte non alimentare, i valori devono essere bassi, di solito quando abbiamo valori alti vuol dire che c'è stata contaminazione con il terreno. Chimicamente parlando sono quegli elementi minerali che rimangono dopo che il campione è stato portato a una temperatura di combustione intorno ai 600 gradi. Il tenore proteico o la proteina grezza insomma è data dalla moltiplicazione del contenuto di azoto per un coefficiente di 6,25. Questa dipende da diversi fattori come lo stadio vegetativo, un foraggio precoce ha un contenuto di proteina più degradabile, maggiore dalla specie, le leguminose hanno un maggiore contenuto rispetto alle graminacee, dalle concimazioni perché un accesso di nitrato ammonio nel terreno potrebbe andare a aumentare anche l'azoto non proteico nel foraggio a discapito dell'azoto proteico e infine appunto dall'insilamento perché bisogna tener conto che potrebbe esserci una parziale proteolisi durante l'insilamento. I lipidi hanno il valore energetico e dopodiché ci sono i carboidrati che sono non fibrosi e strutturali. I carboidrati non fibrosi sono principalmente l'amido, l'amido è la frazione energetica più concentrata e di solito le molecole di glucosio che formano l'amido sono sotto forma di amilosio o amilopectine e l'amilosio è di solito intorno al 25 per cento dell'amido però dopo ovviamente ci sono genetiche diverse che hanno più o meno concentrazione di amilosio. Altri carboidrati non fibrosi sono gli zuccheri che sono il substrato delle fermentazioni e quindi sono fondamentali per la corretta acidificazione della massa. Per quanto riguarda i carboidrati strutturali ovvero la fibra sono i carboidrati che troviamo nella parete cellulare. Le componenti della fibra sono l'NDF, l'ADF e l'ADL. Queste tre sigle sono dovute all'analisi chimica che si esegue per determinarle. L'NDF è composta da emicellulosa, cellulosa e lignina e appunto chimicamente parlando si tratta di quella parte di fibra che detessa con un detergente neutro rimane. Questo perché questo detergente va a sciogliere tutti gli altri componenti come gli zuccheri, gli medici, eccetera. Poi c'è l'ADF che è composta da cellulosa e lignina. ADF perché sarebbe la fibra acido-detensa quindi appunto il detergente che andiamo a usare è a pH acido e scioglie, solubilizza l'emicellulosa. Infine c'è la lignina che è la parte di fibra indegradabile e solitamente si isola l'ADF con l'acido solforico in modo appunto da sciogliere la cellulosa. La lignina è collegata al discorso di digeribilità della fibra, dovrebbe essere più bassa possibile e la lignina dovrebbe essere più bassa possibile mentre la digeribilità è data da una percentuale, più è alta migliore è. Diciamo che è legata alla maturazione della pianta appunto perché più la pianta matura più lignifica e quindi la fibra è sempre più strutturata e meno utilizzabile degli animali. Per quanto invece riguarda la qualità fermentativa i parametri che la caratterizzano sono appunto il pH e poi tutti gli acidi organici, quindi tutti i prodotti della fermentazione. Il pH è il grado di acidità dell'insilato più è basso, scusate, più è alto il contenuto di acido lattico e migliore è il nostro prodotto. L'acido lattico quindi appunto è il principale prodotto della fermentazione, è un acido molto forte ed è l'acido più importante per garantire il corretto abbassamento del pH. Poi abbiamo appunto l'acido acetico, anche questo deriva dalla degradazione degli zuccheri e solitamente è presente, però bisogna tener conto che se i valori sono troppo elevati vuol dire che le fermentazioni procedono a rilento, però appunto una buona presenza di questo acido soprattutto più di fronte è positiva. A seconda del rapporto che c'è tra l'acido lattico o l'acido acetico noi siamo in grado di capire se il gruppo predominante dei batteri lattici è quello omolattico o letterolattico. Dopodiché abbiamo altri due acidi solitamente che è il propionico che è un acido debole e presente in tracce e poi l'acido butirrico. Anche questo deve essere presente in tracce e soprattutto è importante perché ci dice se le nostre fermentazioni, cioè se ci sono fermentazioni a carico dei clostridi, per cui insomma un elevato contenuto di acido butirico è in genere allarme, un idice di allarme. Altri due prodotti che solitamente si va a misurare con l'analisi chimica insomma sono l'azoto ammoniacale e l'etanolo. L'azoto ammoniacale è legato all'ammoniaca, diciamo che deve essere intorno al 10% dell'azoto totale perché se il valore di ammoniaca è più alto vuol dire che c'è stata una degradazione delle proteine e quindi presenza di clostridi o enterobatteri. L'etanolo è anche su un prodotto delle fermentazioni e è normale che anche questo appunto parametro ci sia, ma come l'ammoniaca non deve essere troppo elevato, altrimenti vuol dire che probabilmente c'è stata un'entrata di aria per cui hanno agito lieviti e quindi appunto la fermentazione non è andata a buon fine. Concludo appunto dicendo che è molto importante appunto valutare la trincea e soprattutto che cosa abbiamo a l'interno della nostra trincea. Noi come KWS offriamo un servizio di monitoraggio delle trincee appunto in cui andiamo a vedere insieme all'agricoltore la qualità dell'insilato, la compattazione e poi abbiamo uno screening delle temperature. In questa maniera sappiamo esattamente che cosa stiamo dando da mangiare ai nostri animali oppure che cosa stiamo usando nel biodigestore. Io ho terminato, grazie per l'attenzione, se ci sono domande comunque lascio la parola a Francesca. Grazie mille Maria per tutta questa panoramica in merito alla gestione dell'insilato e se avete domande vi invito ancora una volta a farle nella nella chat e nello spazio disponibile qua in sovrascrizione e attualmente ce ne sono due e la prima è se impiego più giorni a chiudere la trincea come posso fare per essere più efficiente? Ok, allora diciamo che il problema maggiore è legato al fatto che mettendoci più giorni vuol dire che di notte non lavoriamo quindi lasciamo la trincea esposta all'aria. comunque dopo il giorno dopo noi riprocediamo a compattare per cui è un problema che si può controllare mettiamola così, però una buona accortezza potrebbe essere quella di coprire appunto con un telo semplicemente appoggiato la trincea in modo da sfavorire anche poi quella che è l'ossidazione vera e proprio del prodotto. Perfetto, grazie mille. La seconda domanda invece è quando ho livelli di ammoniaca elevati come capisco qual è la causa? Ok, allora diciamo che le cause principali appunto come detto sono i clostridi e gli interobatteri. Bisognerebbe fare un'analisi chimica nel momento in cui noi vediamo che è elevato anche l'acido butirrico ovviamente la causa sono i clostridi. senza fare l'analisi chimica si può andare a naso perché ovviamente quando l'odore è molto sgradevole e quasi non ha quell'odore da lievito che dovrebbe avere l'insilato un po' acidulo insomma ma invece c'è un odore più amarognolo allora probabilmente appunto sono i clostridi. Comunque fare l'analisi chimica è sempre la scelta migliore perché dà anche il grado di contaminazione che c'è nell'insilato. Perfetto, grazie ancora Maria per le risposte per l'intervento, grazie a tutti coloro che sono in ascolto per la partecipazione e ricordo che ci sono altre lezioni in programma, il progetto KOS Informa finirà infatti a febbraio e ovviamente siete invitati a partecipare anche alle prossime lezioni, il calendario è disponibile nel nostro sito web e trovate tutte le indicazioni anche nelle nostre piattaforme social e sia nel sito web che nelle piattaforme social ovviamente c'è anche il link per la registrazione. Ringrazio tutti voi ancora una volta, vi auguro una buona giornata e ci vediamo durante i prossimi incontri.